Benvenuti al Climatfest, siamo al Parco Nord di Milano, conosciamo tutte le realtà della nostra zona del Climatfest nella giornata di domenica 5 giugno. Oggi con me abbiamo Andrea, però detto Desi. Esatto, ciao a tutti, Desi, Desi e Andrea ce ne sono troppi, troppi. Andrea, dico cosa sei, dove siamo qui, perché ci troviamo da te? Sono uno dei ragazzi di ciclofficina Contromano, noi siamo Contromano Bike, ma ciclofficina è il nostro fulcro centrale. Non siamo un negozio, facciamo tutto quanto gratuitamente, il nostro scopo quindi non è riempirci le tasche, non è proprio neanche da lontano l'intento. Facciamo tutto quanto gratuitamente, compreso di prestare attrezzi, materiale, bici intere, o banalmente c'è qualcuno che ha bisogno di sistemare la sua bici, gli manca un qualche cosa, viene da noi, lo assistiamo, sta con noi, si sistema la bici e poi speranzoso se ne vada via contento. Se proprio vuole ci lasciano offerta, ma noi non la chiediamo. Mi dicevi un tutto tondo sulla bici, quando e come nasce? Quando e come nasce? Come provocazione in un piccolo associazione cittadina dentro Paderno Dugnano di ciclisti, per pura casualità, ma sarebbe un discorso a parte, dentro un centro di aggregazione giovanile, che poi è stato chiuso, ci siamo spostati in una sede temporanea e poi dove siamo tuttora a Cusano, tra Paderno e Cusano, dentro al circolo Arciagora. Tutto tondo sulla bici, perché sì, facciamo la ciclofficina, ma poi partecipiamo a eventi tipo questi, dove in questa occasione è sempre il tema il clima, l'ambiente, quindi la bici è molto inserita. La bici si presta, ma siamo molto chiamati anche dentro le scuole, quindi giornate aperte, giornate ambientali, o come banale, banale tra tantissime virgolette, laboratorio per far provare ai ragazzi anche qualcosa di manuale. Quindi sì, lo sfondo ambientalista, sociale e quant'altro, ma non necessario. Anche perché si dice che la conoscenza è libertà, per cui imparare a usare la bici, a ripararle, e essere autonomi ai 360 gradi è sicuramente utile. Assolutamente. Cosa avete fatto qui al Climate Fest? Qualche laboratorio? Siamo stati noi stessi, perché per fortuna siamo sempre noi stessi. Una cosa in più, abbiamo lanciato da questo evento qui, e ce lo porteremo avanti a oltranza, una sfida sullo smonte e rimonte a una camera d'aria. Per il momento siamo a un minuto e venti, un minuto e diciannove, scusate, un minuto e diciannove, togli e rimetti la camera d'aria che ci mette meno tempo. Oggi regaliamo delle borracce recuperate, non comprate, non fatte apposta, recuperate, nuove, precise, belle, recuperate. Mi ricordi l'età del più giovane partecipante e quanto ci ha messo? Oggi dieci anni, tre minuti e quarantanove se non sbaglio. Quindi possiamo dire così che se il meteo regge, vi invitiamo a partecipare alla sfida, se la porteranno avanti, borracce in omaggio, ma soprattutto dovete battere un ragazzino di dieci anni. Vero, assolutamente vero, dieci anni, dieci anni, confermo. Allora ti ringrazio Andrea, grazie per essere stati qui con noi. A voi e al Climate Fest. Buona fortuna, la dice tutto, Tony. Grazie, ciao. Ciao.